Codice rosso, tutela ambientale, scuola, prevenzione di truffe e furti sono solo alcuni dei settori di maggiore impegno dei carabinieri che ieri hanno festeggiato il 200 decimo anniversario dalla loro fondazione. Ad Arezzo la festa è stata ospitata dal Parco Ducci ed è servita a fare il punto di un anno di lavoro ma anche a riflettere sull'inutilità della guerra, la necessità della presenza sul territorio come è raccontato anche nel nostro collegamento in diretta durante il Tg. Al termine della cerimonia sono stati premiati sei militari tra ufficiali sotto ufficiali brigadieri e carabinieri che si sono distinti in brillanti operazioni di servizio. Il questore di Arezzo Maria Luisa di Lorenzo, i carabinieri Rosa Lamberti e Chiara Russo nonché Sara e Sofia figlie di carabinieri hanno proceduto alla scopertura di un'opera realizzata dal maestro Stefano Roselli e donata al comando provinciale carabinieri Arezzo. La scultura rappresenta un cuore stilizzato con al centro il tricolore, opera che secondo l'autore esprime empaticamente i valori umani, culturali e sociali che caratterizzano la storia dell'arma dei carabinieri verso i quali fin da piccolo ha sempre nutrito stima e sincera solidarietà. La scultura in alto rilievo realizzata in resina acrilica ecologica e fibra di vetro con patinatura in oro francese e smalto sintetico sarà collocata presso il comando provinciale dei carabinieri di Arezzo. Al termine il vescovo Andrea Migliavacca ha benedetto l'opera.